Exoraptics, oggi abbiamo più per voi T35 Cross, motore 1500, blu hdi con 130 cavalli di potenza. La troviamo oggi nell'allestimento Phil, in questa fantastica colorazione grigio artese. Possiamo già notare cerchi in lega del raggio di un certo pollici, spostandoci nella parte posteriore abbiamo un serbatoio da 50 litri, sensore di parcheggio, retrocamera, e un ottimo bagagliaio della capienza di 580 litri, andando ad abbattere poi le sedute posteriore arriviamo fino a 1630. Nella parte posteriore troviamo cristalli elettrici, tre sedute totalmente indipendenti in tessuto misto pelle con doppio attacco Isofix e presa USB, abbiamo ovviamente anche bocchette dell'aria. Nella parte anteriore possiamo trovare un volante in pelle con la gestione del bluetooth e delle chiamate al volante, palettine e cambio automatico, schermino per gestire totalmente l'infotainment e il navigatore, freno e stazionamento ovviamente automatico. L'auto è stata matricolata a 2021 alimentata l'India con solo 35.200 km. e quindi vi viene a visionare questi e altri sito su nostro sito ratex.com. Grazie. Grazie.